Benvenuto su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie ti invitiamo a iscriverti al canale. Per noi il tuo contributo è importante. Le offese sono piovute sulla politica perché è stata accusata di aver attaccato Baby Gang durante una vecchia puntata di Dritto e Rovescio. Il programma condotto da Paolo Del Debbio, lo stesso autore delle minacce, un leone da tastiera, le ha scritto anche. Prima di insultare Baby Gang vatti a leggere il suo passato. Un fan del trap Baby Gang ha scritto sui social all'eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri. Ti sbudellerò davanti agli occhi di Del Debbio, spingendo così la politica a denunciarlo. Come ha annunciato lei stessa su Facebook, la leghista ha affrontato nuovamente l'argomento nello studio di Dritto e Rovescio, durante la puntata andata in onda ieri sera su Rete4. Non ho ancora capito con chi ce l'abbiano queste persone, ha detto la Tovaglieri, perché odiano i politici, odiano la polizia, odiano le donne, odiano andare a lavorare. Ma si dimenticano che comunque sia intanto se questo paese proprio gli fa schifo nessuno li trattiene con la forza. Rivolgendosi ad Abdul Shuri, organizzatore di eventi rap e ospite del talk show di Rete4, l'eurodeputata del Carroccio gli ha dichiarato. Tu sei l'esempio che dimostra che questo paese non è razzista e anzi offre delle opportunità concrete a chi è straniero e desidera integrarsi. Tu sei la prova tangibile che questo paese offre delle opportunità. Tu che ne pensi di queste minacce gratuite? Faccelo sapere nei commenti grazie. Ciao a presto.